Il 20 novembre ricorre la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia, il 25 novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Due momenti ravvicinati di tutela dei diritti della persona che vengono salvaguardati attraverso la cultura. Quella della Biblioteca Oliveriana e di Unicef Pesaro che dal 18 al 25 novembre organizzano una settimana di appuntamenti dedicati all'attenzione sulle due tematiche. Anche quest'anno la Biblioteca Oliveriana è lieta di partecipare a questa giornata, la giornata internazionale contro la violenza di genere e devo dire che lo facciamo veramente con una grande partecipazione. Quest'anno ospitiamo due eventi organizzati da Unicef che quindi oltre a ricordare una figura importante che è quella di Malala, quindi una donna che ha subito violenza e che poi ha innescato un meccanismo anche di tutela e di protezione delle donne, ma oltre a questo chiaramente c'è anche un'attenzione particolare ai più piccoli, quindi ai minori e quindi comunque alle fasce più deboli. E poi ci sarà invece una teatralizzazione, una drammatizzazione di una storia pesarese dell'inizio del 1800 e la storia che racconta la morte tragica di Virginia del Mazzo, che poi è ricordata anche da Giacomo Leopardi e in questo caso invece è realizzata in collaborazione con il PAC, quindi Paola Galassi e con la regia di Giampiero Solari. Polvere perché abbiamo lavorato sulla cancellazione di questa storia che è un caso di cronaca nera accaduto nei primi dell'Ottocento a Pesaro, questa ragazza insomma morte in circostanze tragiche e un caso che colpì moltissimo all'epoca Giacomo Leopardi che per lei scrisse una canzone. Allora da questo noi ci siamo ispirate ascoltando molto blues, il blues delle donne afroamericane degli anni 20 del 900 e ci siamo ispirate a questa storia, abbiamo lavorato sul filo della cancellazione, sulla rimozione della storia ed ecco perché l'abbiamo intitolato Memorie come polvere perché la polvere è quella cosa che viene messa sotto il tappeto. Il 20 saremo a Fano con la città dei bambini e lì ci sarà appunto una bella manifestazione e chiederemo ai bambini dove stanno bene, loro dovranno giocare attorno ad una piantina, la piantina della loro città e dovranno dirci appunto dove stanno bene. Poi il 22 ci muoviamo, andiamo a Borgo Santa Maria alla biblioteca Rodari e lì altro momento diciamo creativo per i bambini, ci sarà uno spazio dato alla lettura e uno spazio proprio per il laboratorio. Il titolo dell'appuntamento è Combattere i giganti e il tutto rientra nel grande tema della pace libera a tutti. Quindi il 25 avremo un altro appuntamento sempre a Pesaro e proprio nella nostra sede Unicef, ci sarà anche qui un momento di lettura, lettura espressiva in laboratorio per bambini fino agli 11 anni circa e lavoreremo attorno al tema dei diritti. I diritti dei bambini è quello che dobbiamo assicurare ai minorenni.